Sequestrato in A1 il più grosso carico di sigarette di contrabbando mai rinvenuto dalla sottosezione di polizia stradale di Battifolle, il valore è circa 1.300.000 euro. Tre le persone fermate, cittadini croati poco più che trentenni, che avevano occultato il carico di sigarette di contrabbando all'interno del rimorchio di un auto articolato sotto un enorme cumulo di truccioli di legno. I poliziotti li hanno fermati lungo la carreggiata nord della A1, non convinti delle scarne spiegazioni fornite dai tre circa la loro presenza sul territorio italiano, hanno approfondito il controllo e all'interno dell'abitacolo hanno ritrovato i documenti di circolazione e la chiave di accensione di un autotreno di proprietà di uno dei tre. Con la collaborazione dei colleghi della sottosezione di polizia stradale di Roma a sud è stato individuato il mezzo pesante, parcheggiato immediatamente fuori del casello di Colleferro. Raggiunto il luogo, i poliziotti hanno scaricato l'autotreno e sotto i truccioli di legno è comparso un grande involucro di cellofan che conteneva 25.875 stecche di sigarette pari ad oltre 50 quintali di bionde rigorosamente di contrabbando.